La redazione sportiva di Radio Studio 7 presenta Sottorete, radiocronaca sportiva di volley, risultati, commenti ed interviste. Sottorete, per essere protagonisti. Ben ritrovati con Sottorete, buon sabato mattina agli amici di Radio Studio 7 del canale 611 del digitale terrestre Marche. In radiovisione con il volley maceratese, prima parte dedicata alla Roana CBF Elvia Recina Macerata. Iniziamo con il campionato di B2, girone F femminile e iniziamo proprio con i risultati della scorsa settimana. A Torre San Patrizio, 3M Pucci Ufficio Perugia, batte Torre Volley 3 ad 1. School Volley Bastia Umbra, team 80 Gabice Gradara, 3 a 0. Roana CBF Elvia Recina Macerata, Laiki Wind Trevi, 3 a 0. Libertas Volley Forlì ed il Ceccacci, Moia di Maiolati, 3 a 0. A Cervia, Caffa Acli, Stella Rimini, batte Visus Cervia, 3 a 0. A Gubbio, Sacrata Civita Nova Marche, si impone per 3 ad 1 sulla New Font Mori Gubbio. Ed infine, altra vittoria esterna a Castelbellino Stazione, la CSI Clive Solov Imola, si impone per 3 set ad 1 sulla Termoforgia Moviterra di Castelbellino. Questi erano i risultati della scorsa settimana. Diamo velocemente uno sguardo alla classifica. Condotta con 40 punti dalla School Volley Bastia Umbra. A 39 troviamo Libertas Volley Forlì, 37 ed il Ceccacci, Moia di Maiolati. 34, Roana CBF Elvia Recina Macerata. A 33, New Font Mori Gubbio. 30 punti per la Sagrata Civita Nova Marche. 24 punti per la 3M Pucci Ufficio. 21, Caffacli Stella Rimini. 18 punti per la Team 80 Gabice Gradara. A 14 troviamo la Lucky Wind Trevi. 13 punti, Torre Volley e Termoforgia Moviterra Castelbellino. Ed infine, a 10 punti, la CSI Clive Solov Imola e la Visus Cervia. Questa era la classifica e noi siamo pronti ad accogliere la nostra prima ospite di Sottorete questa mattina, il secondo libero della Roana CBF Elvia Recina Macerata, Alessandra Creti. E quindi diamo la linea allo studio 2 a Corrado Bellagamba. Grazie Mario e cominciamo con la Roana CBF Elvia Recina Macerata con il secondo libero Alessandra Creti. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Vogliamo un po' prima di parlare un po' di te e del tuo percorso all'Elvia Recina parlare dell'ultima partita che vi ha visto giocare contro Trevi in casa. Sì, abbiamo vinto 3 a 0 portando a casa altri tre punti importanti e sono stata anche molto contenta perché ho avuto la possibilità di giocare nel secondo set e quindi è stato emozionante e sono contenta per questa possibilità. Parlando un po' anche di te, della tua avventura all'Elvia Recina perché tu sei proprio originaria di Villa Potenza, giusto? Esatto. Come hai iniziato? Ho iniziato nel mini volley come molti miei compagni di squadra a giocare nell'Elvia Recina e questo è il secondo anno che sono in B2, il mio esordio è stato l'anno scorso e dopo che ho fatto tutti i campionati giovanili appunto dall'under 12 fino all'under 18 e abbiamo affrontato anche alcuni campionati di prima divisione, di serie D, quest'anno facciamo la prima divisione insieme anche ad altri compagni di squadra in cui abbiamo la possibilità di giocare, di metterci sempre in gioco e poi appunto l'opportunità della B2 che è sicuramente una grandissima opportunità per allenarci ad un livello alto e quindi... Quindi tu militi in entrambe le squadre, quella di B2 e quella di prima divisione. E come sta andando in prima divisione? Sta andando piuttosto bene, siamo secondi in classifica, siamo reduci da una vittoria per 3 a 2 e puntiamo più in alto possibile dato che penso che abbiamo le carte in regola per farlo. Secondo anno in prima squadra, come ti trovi con il gruppo e se ci sono delle differenze rispetto all'anno scorso? Sicuramente il primo anno mi ha fatto un po' di stacco perché ero abituata a giocare con tutta la gente della mia età prima e quest'anno mi trovo molto bene con le compagnie di squadra, siamo un gruppo molto affiatato e anche se siamo una squadra anche molto giovane quindi sicuramente sono molto a mio agio. Domani prossima partita, vi attendo una trasferta. Sì, affronteremo Imola che non è una squadra assolutamente da sottovalutare, è importante fare bene sia sul piano del gioco ma anche per conquistare i tre punti dato che ora anche in B2 puntiamo in alto se possiamo dirlo. Esattamente, infatti era proprio questo che ti volevo chiedere, una stagione che sta andando forse oltre quelle che erano le aspettative dell'inizio. Sì, sicuramente oltre le aspettative iniziali della squadra, però il nostro sogno appunto e il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile dato che come ho già detto siamo una squadra giovane che migliora partita dopo partita e allenamento dopo allenamento quindi possiamo puntare a fare bene anche nelle prossime partite. Giocando in prima divisione quanto porti di quello che poi è l'esperienza della B2? Sicuramente molto dal punto di vista anche della sicurezza in campo perché allenandoci ad un livello superiore come quello della B2 è ovvio che le difficoltà di prima divisione sono inferiori quindi è molto importante per noi, è un grande vantaggio. Grazie Alessandra, in bocca al lupo per la partita di oggi, per di domani scusa, e anche per il prosieguo della stagione. Grazie. E Mario, ti cedo la linea per proseguire con il resto della trasmissione. Grazie Corrado e grazie anche alla nostra ospite Alessandra Creti, il secondo libero dell'Elvia Recina Macerata e continuiamo con le partite proprio di questa settimana, di questo weekend. Lucky Wind Trevi, Torre Volley, Edil Cecacci, Moia di Maiolati, 3M Pucci, Ufficio Perugia, Caffacli, Stella Rimini, Libertas Volley, Forlì, CSI, Clive, Solov, Imola, Roana, CBF, Elvia Recina Macerata, Sacrata, Civitanova, Visus, Cervia, School Volley, Bastia Umbra, Termoforgia, Moviter, Castelbellino, ed infine Team 80, Gabicce, Gradara, Nufont, Mori, Gubbio. Da segnalare e anche per gli amici che ci seguono sempre in radiocronaca con Sottorete, la trasferta della Roana CBF, Elvia Recina Macerata, partita che si giocherà domenica alle ore 18 in quella di Imola, partita che ovviamente seguiremo in diretta ed in concomitanza in contemporanea anche con l'altra trasferta che avremo il piacere di seguire in diretta, quella della capolista della B1 Girone B maschile, la Videx Grotta Zolina, sempre alle 18 che va a far visita alla Quattro Torri Ferrara. questi due incontri appunto della domenica, breve pausa musicale qui a Studio 7 Sottorete e poi il prossimo ospite con la Medea Montalbano Macerata.